SAMSIC. Con la scelta giusta, ti faciliti la vita. Un servizio di manutenzione funziona davvero solo quando la tecnologia potenzia la strategia, perché con una piattaforma informatica che gestisce, archivia i dati e tablet evoluti in dotazione ai tecnici, gli interventi sono più mirati e veloci. Quando tutelare vuol dire programmare, perché si assicurano efficienza e funzionalità tenendo sotto controllo ogni scadenza. Quando la comunicazione migliora la collaborazione, perché i clienti hanno sempre accesso alle informazioni sulle attività. Quando si è così affidabili da essere tracciabili, perché tutti gli interventi sono documentati in tempo reale. Quando si è supportati da servizi dedicati, perché ogni cliente ha un'area web riservata per richiedere manutenzioni straordinarie. Quando si può contare su chi ci può aiutare, perché con squadre operative presenti in ogni area geografica gli interventi sono più tempestivi. Quando gira tutto per il verso giusto, perché c'è un servizio di manutenzione integrata che assicura personalizzazione, qualità, organizzazione, modernità, prevenzione, affidabilità. Simpli Samsic, c'è più facilità.